Mai più nascosta è l'impegno di medici, operatori, famiglie e malati che lottano contro la malattia di Huntington ricevuti oggi in udienza da Papa Francesco nell'Aula Paolo VI. Dopo aver ascoltato testimonianze drammatiche sulla vergogna, l'isolamento e l'abbandono provocate da questa patologia genetica neurologica rara, il Pontefice ha incoraggiato alla condivisione all'incontro con i malati come faceva Gesù. Chinandosi sui sofferenti, Cristo ha battuto i muri dello stigma e dell'emarginazione, insegnandoci che la persona umana è sempre preziosa, dotata di una dignità che nessuno può cancellare. La fragilità non è un male e la malattia che della fragilità e espressione non può e non deve farci dimenticare che agli occhi di Dio il nostro valore rimane sempre inestimabile. Anche la malattia può essere occasione di incontro, di condivisione, di solidarietà. Gli amalati che incontravano Gesù venivano rigenerati anzitutto da questa consapevolezza. Si sentivano ascoltati, rispettati, amati. nessuno di voi si senta mai solo, nessuno si senta un pezzo, nessuno senta il bisogno di fuggire. Voi siete preziosi agli occhi di Dio, siete preziosi agli occhi della Chiesa. Il Papa non ha mancato di incoraggiare i familiari che accompagnano i malati in questo duro cammino, esortandoli a non cedere alla fatica e alla tentazione del senso di colpa. Poi Francesco si è rivolto ai medici e alle associazioni che si occupano del Huntington, definendoli braccia che Dio usa per seminare speranza, voce che i malati hanno per rivendicare i propri diritti. Infine ai genetisti e agli scienziati, Bergoglio ha chiesto di proseguire sulla via della ricerca per trovare la guarigione definitiva della malattia, con mezzi che non alimentino però la cultura dello scarto giustificando ad esempio la distruzione di embrioni umani.